Ciao ragazze, allora sono appena tornata da Parigi, cioè appena ieri sera in realtà come sapete perché vi ho aggiornato come al solito su Facebook e su Twitter, vi tengo sempre molto aggiornate siamo stati lì soltanto per due giorni per una fuga romantica per il nostro anniversario è stata proprio un'idea che abbiamo avuto all'ultimo momento, sono tre ore di treno con il treno veloce da qua ad Amsterdam quindi insomma perché no e ci siamo divertiti tantissimo, quella città è bellissima, insomma io adoro Parigi è la terza volta che ci vado e sicuramente ci tornerò avendola comunque abbastanza vicino quindi insomma sì, e ho fatto anche un po' di shopping, quindi siccome vi ho postato la foto delle buste su Twitter e su Facebook in tantissimi mi avete chiesto di farvi il video haul eccetera eccetera e quindi vi faccio vedere quello che ho preso, vi avviso subito, sono impazzita proprio ed ho fatto una mega mega spesa da Chanel, quindi vi faccio vedere prima quello che ho preso da Sephora giusto due cosine, l'unico marchio in realtà che mi interessava vedere da Sephora perché l'unico marchio che qui non riesco a trovare è la Nars ed ho preso due prodotti che mi hanno colpita veramente tanto non volevo prendere prodotti con colorazioni che ho già, ho comunque appunto prodotti che sono simili ad altri che già ho quindi ho preso due prodotti veramente particolari il primo è questo matitone rossetto opaco proprio perché volevo prendere un colore opaco e ho sentito parlare molto bene di questi matitoni Nars quindi insomma ero curiosa è questo ed è questo splendido colore, potete vederlo anche da qui ed è questo splendido colore rosa pesca, sì un pesca chiaro e non ho assolutamente colori di questo genere quindi mi ha fatto molto piacere aver trovato questo colore è proprio un rosa chiaro colore pesca, un pochino più scuro da come sembra nel matitone questo è appunto lo sticker, magari me lo direte voi quando me lo vedrete indossare in qualche video e quello qua da vicino è lo swatcho anche, vedete che è molto molto pigmentato, mi piace davvero questo colore e adesso sembra che abbia schiacciato un buffo dopo aver fatto questo swatcho ok vabbè sono io che vaneggio, lasciamo stare se lo vogliamo poi altra cosa che ho preso però non ve la posso far vedere perché sono andati tutti e ce li siamo mangiati erano i macaroon e anche la scatola era veramente bellissima ne abbiamo presi tipo quanti erano? 25? oddio non me lo ricordo comunque erano tantissimi e in un paio di giorni io e Nid ce li siamo pappati tutti quanti ma non so se conservare questa scatola e magari utilizzarla per qualche gioiello perché è veramente molto bella e poi quello che ho preso da Chanel allora già vi dico che è stata proprio una follia perché non pensavo di trovare questo modello già qui potete capire magari di cosa si tratta, no non lo so e appunto non pensavo di trovare questo modello nel negozio poi invece l'ho trovato e alla fine ho voluto prenderle quindi avrete capito che si tratta di un paio di scarpe la scatola che mi ha fatto la confezione, cioè il pacchetto regalo che mi ha fatto il ragazzo è veramente splendido e non l'ho aperto per insomma aprirlo con voi in video allora qui c'è la dust bag poi per conservarle ho preso un paio di ballerine e queste sono appunto delle ballerine che io cercavo da una vita perché non sono un modello che si trova sempre da quanto ne so si trovavano l'anno scorso in edizione limitata il ragazzo mi ha detto che è comunque un modello classico che viene riproposto però non le avevo proprio mai mai viste mi piacciono tantissimo queste perché sono trapuntate e quindi non lo so mi ricordano molto le loro borsette e quindi insomma mi piacevano veramente tantissimo e alla fine ho deciso di fare questa pazzia, questa follia e di prenderle c'erano anche in bianco non trapuntate sempre con la punta nera però non ero sicura di volerle prendere in bianco nonostante mi piacessero veramente tantissimo perché si sporcano molto molto facilmente quindi già che è stato un acquisto così grande voglio poi utilizzarle tantissimo senza aver paura di rovinarle troppo o di sporcarle quindi questo era il mio mega acquisto parigino i miei mega acquisti parigini spero che vi sia piaciuto questo video ragazze io adesso vado ad editare il video vlog che ho filmato per voi in quei due giorni che sono state a Parigi e niente vi mando un mega super grandissimo bacione e a presto ciao